Oggi sono arrivato tardi, sono già tutti caldi. Qua la storia si fa triste. Mi sa che mi barchettano giù tutti. Anche se ero caldo mi avrebbero barchettato lo stesso, non è che cambia molto. Troppa gente, troppi giovani, troppe moto. Mi sa che oggi la vediamo un po' dura la storia. Vediamo cosa succede. Via, 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 via. Attacca, attacca, attacca. Questo è un ritardo. Hai filmato? Come cazzo? Ma quanta gente che c'hai qua? Qualcuno l'ha stupidata e la combina subito. Non devi dirlo quando non hai filmato, non si dice. Quella è l'età, fa niente. Dopo o si sistema o si sistema. Vedi, vedi che fanno già i numeri. Ecco, vado a filmare subito. No, dicevo lei, con i pantaloncini forti. Ma porca vattona vacca. Porca. Lo sai che io c'ho il fiume, c'ho ancora i vapori io. Voi state qua a guardare i pirletti e noi guardiamo le donne biote che vanno in discarica. Pantaloncini corti, mini, superlini. Pantaloncini corti, mini, superlini. Pantaloncini corti, mini, superlini. Siamo a fare un po' di via. Dai, dai. Dai che arriva. Dai che torna indietro. Non possiamo dire che da ridere. Adesso andiamo giù nel torrente e te lo sleghi. Subito. Eh, se sei freddo. Trac. E' freddo. E' freddo. E' freddo. Dai, dai che andiamo là. Non c'è più. Eh, ma adesso torna, eh. Adesso torna. Eccola là che scende di là. sì. Sì. Mi pare per le date, no?